In attesa del Messia, centrodestra e centrosinistra si preparano ad un'altra settimana di confronti. L'obiettivo è fare sintesi il prima possibile su un leader credibile e possibilmente vincente. Il centrodestra aspetta Brunese e le decisioni di Roma. Il centrosinistra valuta i primi nomi calati sul tavolo. Facciolla, Fanelli, Manzo, Primiani, Iannacone, Salvatore e attende il via libera del Movimento 5 Stelle che a sua volta attende Conte per trovare la quadra. Nel frattempo c'è chi si prepara a scendere in campo nel segno di un ricambio generazionale invocato da più parti. È arrivato il momento di fare un cambio generazionale della classe dirigente regionale che negli ultimi dieci anni ha fatto tutto tranne che amministrare questa regione. Il consigliere comunale di Campobasso boccia toma i suoi assessori che ha governato negli ultimi dieci anni e ritiene superata la dicotomia centrodestra e centrosinistra. Programmi e candidati. Oggi non è più questione di centrodestra e centrosinistra, non prendiamoci in gira. Oggi è questione di spessore politico di persone che interpretano il ruolo di presidente, di consiglio regionale. Parlare di destra e sinistra non c'è più nessuno, neanche più 5 Stelle. Così come non ha dubbi sulle caratteristiche che dovrà avere il prossimo governatore. Mi avviso dovrebbe essere un politico, uno che interpreta i problemi del proprio popolo e che fa politica a 365 giorni all'anno. Basta i tecnici, basta i superpotentati che non conoscono nemmeno alcune parti del territorio, basta fare l'appello a chi non ha fatto politica. orteicino non nemmeno alcune quali persona. Rimbe showed un'esp framata richanne. Le consiglio sono inserisati che dovrebbe essere un'espitzola oggamata reale. Ci vediamo la incitazione per l'ab Genteburiera. Si vediamo mestimbillo innanzitare니que il mondo dell' objetivo di questo punto è ricochetto. Grazie a tutti.